Come nasce questa passione per l'olio? È una passione che si domanda da generazioni. In famiglia abbiamo sempre avuto oliveti, dai miei nonni, dai rispettivi nonni e così via di seguito. E quindi continuiamo una tradizione di coltivazione familiare, aggiornandoci ovviamente e quindi impiantando anche nuovi oliveti. Piccola dimensione aziendale, siamo sui 5 ettari e l'olio che presentiamo qui a Novellolio è un olio che proviene in base di cerasuolo ovviamente, che proviene da un impianto che alla prima produzione sono alberi di 4 anni di età, incontrata a carrozza, quindi su terreni tendenzialmente sciolti in alcuni punti di medio impasto. Quest'anno ha zero trattamenti, ringraziando l'andamento climatico, poi che ci ha penalizzato dal punto di vista delle rese, però è venuto fuori un prodotto molto buono, armonico, che si sposa un po' con tutto, pizzica, leggermente come ovviamente sia e ovviamente come da tradizione noi proponiamo un olio che è non filtrato. Perché per noi la tradizione è proprio quella di consumare l'olio senza nessuna filtrazione, tranne che la filtrazione alla decantazione naturale. che avviene con il tempo, per cui è chiaro che poi al fondo dei contenitori col tempo si forma un po' di deposito, ma il deposito oggi ci dà certezze sulla provenienza e ci garantisce il prodotto. A differenza degli olio ovviamente industriali che per ovvie ragioni di commercializzazione, essendo legati alla grande distribuzione, devono necessariamente essere sottoposti ad operazioni di filtrazione, per avere una maggiore conservabilità e per fornire proprio grossi quantitativi. La nostra azienda è ovviamente una piccola azienda, come tante, che tenta di intraprendere questa strada diversa di approccio con il consumatore. Voi in certo qual senso come territorio vi trovate nella DOP Val di Mazzara, ma avete una peculiarità, la Cerasuola, che è di qualcosa di diverso, potremmo dire, dal disciplinare proposto. La Cerasuola si contraddistingue per la grande conservabilità dell'olio, dovuto alla ricchezza in polifenoli, che permette anche a distanza di un anno e talvolta anche di due anni, un olio perfettamente ben conservato, quindi tenuto lontano da fonti di calore, lontano dalla luce e soprattutto tenuto in piccoli contenitori, che siano delle bottiglie in vetro scuro o che siano delle latte in alluminio, ma che siano di piccolo formato, consentono di apprezzarne tutte le caratteristiche, anche in odori, anche a distanza di tempo. Questa, diciamo, è la scommessa. Penso che la realtà della Valle dell'Oiato possa puntare molto su questo prodotto, che è tipico proprio della zona. È inutile pensare di introdurre varietà che non sono di questo areale di coltivazione. Ovviamente ci sono delle differenze che si apprezzano, tra l'olio che proviene dalla fascia costiera, anche esso a base di cerasuola, e lo stesso di cerasuola che proviene dalla zona più collinare. Ovviamente il clima cambia, i terreni cambiano, si va verso i terreni argillosi, nella zona più collinare, rispetto ai terreni sabbiosi che sono nella zona più costiera. Grazie. Allora facciamo rivedere di nuovo la bottiglia. Verd'olio, quindi un olio che si trova naturalmente nel supermercato. Qual è? Lo troviamo presso gli amatori, presso le famiglie, presso qualche piccolo locale che richiede il nostro prodotto. Ovviamente è un prodotto, diciamo, non proprio di nicchia, ecco, assoluto, però è un prodotto che comincia ad essere apprezzato, speriamo bene.